Creazioni Alfa, il nostro mestiere, al vostro servizio. Roberto Muscelli, questo è Beowulf, è uno dei cani che faranno oggi l'attività con i ragazzi. Sì, fanno l'attività con i ragazzi, i ragazzi si divertono molto e soprattutto anche i cani si divertono molto. E questo ovviamente è una delle cose fondamentali. Questa è una delle cose fondamentali perché i cani non vanno sfruttati assolutamente perché sono creature. Loro si divertono tantissimo, i ragazzi si divertono tantissimo. Lui è Beowulf, lavora molto bene già nell'Argility Dog, al terzo brevetto Massimo, ha finito la sua carriera e adesso può dedicare degli spazi a questi ragazzi. Naturalmente devono essere dei cani adatti, non tutti sono cani adatti, anche se i cani sono addestrati non necessariamente sono adatti. Ecco, questi sono dei Border Collie? Questi sono dei Border Collie, lui è un cane molto 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 affettuoso, molto socievole, l'avete visto. E in più ha molta voglia di lavorare, quindi diciamo che per questo tipo di lavoro è l'ideale. Qui si tratta di utilizzare una Paragility, un piccolissimo percorso di Agility che è motivante per i ragazzi. Li fa divertire e soprattutto favorisce un senso di autostima perché il ragazzo vede che il cane fa delle cose sui suoi comandi. E favorisce anche un senso di regolazione dal punto di vista psicomotorio perché in ogni caso il ragazzo deve fare dei movimenti corretti per condurre il cane. È importante ed è un'attività che coinvolge realmente tantissimo tutti i ragazzi. La Pet Therapy ormai ha un suo ruolo decisamente riconosciuto in questo. Sì, 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 riconosciuto. Vi fu anche uno circolare dal loro Ministro Sir, che è il Ministero della Sanità, che consentiva, poi non si è più verificato, però in realtà consentiva anche la presenza del cane in ospedale. Io ho avuto modo di lavorare con i cani sia in ospedale, con il reparto pediatrico, sia in carcere, con ragazzi autistici. Diciamo che il ruolo è riconosciuto anche attraverso tutta una serie di letteratura scientifica che riconosce all'interazione cane-ragazzo una importanza. Ovviamente è opportuno precisare che il cane non è un terapeuta di per sé, il cane è un cane, con tutte le sue potenzialità e naturalmente ci vuole un'equipe di professionisti che medi la situazione per ottimizzarla. Quindi voglio anche dare un messaggio, non necessariamente tutte le famiglie hanno un ragazzo problematico, è bene che si prendano un cane perché il cane di per sé fa bene alla famiglia. Ecco, questo è importante precisarlo. Questo progetto nasce proprio per coinvolgere i ragazzi e dargli uno stimolo in più. Sì, abbiamo pensato lo scorso anno, in base ad una mia conoscenza personale con il dottor Roberto Mucelli, di iniziare questa attività con i ragazzi diversamente abili. Quindi mi è venuta l'idea di contattarlo per proporgli se per lui poteva essere un'idea effettuare questo tipo di attività con noi. Ecco, i ragazzi sono tutti fuori, non vedo l'orora di iniziare, quindi sono tutti veramente coinvolti. Sì, sono entusiasti, si aspettavano che iniziasse questo secondo percorso e ci spieghiamo che anche per il prossimo anno si possa ripetere l'esperienza.